Buon pomeriggio a tutti, sono Giulia Manfredini, sono un'infermiera laureata nel 2014 a Modena e da alcuni mesi collaboro con il servizio di epidemiologia e il governo clinico della USL di Modena. Allora, iniziamo con dire che cos'è il Q-score, è un indicatore composito che valuta la proprietà di interventi diagnostico-terapeutici nelle persone con diabete di tipo 2 per raggiungere dei target ottimali di emoglobina glicata, pressione arteriosa, LDL e microalbuminuria. È stato presentato dall'Associazione Medici Diabetologi come uno strumento per valutare la qualità dell'assistenza fornita dai centri diabetologici. Essenzialmente il Q-score prevede di assegnare un punteggio che varia da 0, 5 a 10 ai 4 parametri che valuta. 5 punti vengono assegnati se il parametro non è valutato nell'anno di riferimento, 0 punti se il parametro viene valutato ma non risulta essere in range e 10 punti se il parametro viene valutato e risulta essere in range. è importante tenere conto del Q-score perché è stato dimostrato essenzialmente che a parità di altri fattori in un periodo di osservazione di 27 mesi il Q-score correle in modo inversamente proporzionale con il rischio di sviluppare eventi cardiovascolari. Per quanto riguarda il progetto che c'è in provincia di Modena è iniziato nel 2011 con circa 12.000 pazienti che pian piano sono aumentati fino ad arrivare oggi che ne abbiamo circa 20.000. L'obiettivo del progetto della provincia di Modena è quello di utilizzare il Q-score per migliorare la gestione integrata del paziente con diabete mellito e verificare anche se in una popolazione di diabetici seguita prevalentemente dai medici di medicina generale si conferma la relazione inversa tra Q-score e rischio cardiovascolare che è già stata dimostrata per i pazienti seguiti dai centri diabetologici. Innanzitutto i dati vengono raccolti dai medici di medicina generale e trasmessi al servizio di governo clinico il quale poi ha il compito di elaborare i report. Una volta che sono stati elaborati i report vengono trasmessi nuovamente ai medici di medicina generale assieme a dei feedback specifici per migliorare appunto l'assistenza. I report che vengono trasmessi sono essenzialmente tre. Il primo come vedete ha un indica il numero di pazienti diabetici di quel determinato medico di medicina generale rapportati ai pazienti del nucleo, del distretto e del progetto totale. I pazienti vengono poi suddivisi per ogni parametro in base a che siano in range, fuori range oppure i valori non siano stati determinati. Le percentuali di pazienti così suddivise vengono poi sempre rapportate al nucleo di appartenenza, al distretto e al totale. Altro report è questo che vedete che è molto più intuitivo perché i pazienti una volta suddivisi in fasce di Q-score che variano in base al punteggio, 0-10 la fascia bassa, 15-25 la fascia intermedia e 30-40 la fascia più virtuosa diciamo, vengono indicati le percentuali di pazienti appartenenti a tutte le fasce. Anche qui i dati vengono sempre rapportati a quelli del nucleo, del distretto e del totale del progetto. L'ultimo report che viene inviato, un report molto più specifico perché al medico di medicina generale si trova per ogni paziente seguito in modo visivo molto, scusate, in modo molto veloce da individuare la situazione del paziente, ossia con il colore giallo viene identificato ciò che non è stato valutato nell'anno, con il colore rosso i parametri fuori range e con il colore verde i parametri e range, in modo che il medico abbia una chiara visione su dove intervenire e su quali pazienti. I risultati del progetto già dal 2011 erano molto confortanti perché per tutti i parametri i pazienti comunque risultavano essere a range per più del 50%. Si è visto un aumento dei parametri range nei primi due anni, nel 2014 invece abbiamo avuto un calo. Ciò può essere imputato al fatto che nel 2014 c'è stato un aumento di pazienti seguiti dal progetto e quindi erano i pazienti arruolati tardivamente e con Q-score probabilmente più bassi. Per quanto riguarda le fasce di Q-score c'è da dire che durante il progetto i pazienti in fascia bassa sono rimasti stabili, intorno al 5%, quelli in fascia intermedia sono calati, quelli in fascia alta invece sono aumentati e ciò può essere l'indice di un miglioramento dell'assistenza. Altra cosa importante da notare è che nella corte arruolata nel 2012 a tre anni si evidenzia un tasso grezzo di eventi cardiovascolari che varia notevolmente in base alla fascia di Q-score di appartenenza. Una fascia di Q-score alta ha infatti un tasso grezzo di 26,420 ogni mille persone anno, che aumenta a 30,7 per le fasce da 15 a 25 e arriva quasi a raddoppiare perché diventa 46,6 per i Q-score che sono inferiori a 15. Questa cosa è stata anche supportata da analisi multivariate eseguite nei tre anni che confermano la correlazione inversa tra Q-score e mortalità generale e eventi cardiovascolari maggiori. Infatti se poniamo appunto il rischio relativo dei pazienti con Q-score maggiore di 25 uguale a 1 si ha un aumento non significativo degli eventi cardiovascolari maggiori per i pazienti con Q-score 15-25 e un aumento significativo di sviluppare eventi cardiovascolari maggiori per i pazienti con Q-score inferiore a 15. I limiti del progetto sono essenzialmente due. Il primo che ci sono bias di selezione e problemi di trasferibilità perché i pazienti arruolati soprattutto nella fase iniziale erano quelli più stabili, meno complicati. Inoltre non si ha un'affidabilità certa dei dati raccolti perché i valori sono autocertificati dai medici ma non sono verificati su sistemi aziendali. Per concludere si può dire che il Q-score è un indicatore di valutazione della qualità assistenziale di semplice misurazione. Questa misurazione se fatta annualmente consente di stimare il rischio di complicanze cardiovascolari ed è necessario sfruttarlo per andare a identificare precocemente i pazienti che necessitano di una gestione più attenta. Quindi è necessario andare a lavorare sui pazienti con Q-score intermedi perché tendono a sfuggere ai controlli periodici e i pazienti con Q-score bassi perché sono quelli che non raggiungono i target terapeutici e soprattutto sono più a rischio di sviluppare degli eventi cardiovascolari. Progetti futuri sono quelli di verificare se i miglioramenti dei valori di Q-score si correlano anche alla riduzione di altre complicanze come le neuropatie e le nefropatie e ci si augura che sia possibile una presa in carico da parte dei medici di medicina generale di pazienti più complessi che oggi vengono gestiti solamente dai centri diabetologici. Vorrei ringraziare la dottoressa Recomi Silvia che per prima ha sviluppato e validato la metodologia Q-score in medicina generale, il gruppo di lavoro PECAD della provincia di Modena e il dottor Capelli Oresse che mi ha fornito gli strumenti e le conoscenze per essere qui oggi. Volevo inoltre ringraziare tutti voi per l'attenzione. bravissima grazie anche questa presentazione aperta per la discussione alzate c'è una domanda se si alza in piedi la vedono meglio portare il microfono mi scusi complimenti al lavoro di Modena che conosciamo che è molto ben fatto e che per primo ha adottato il Q-score anche in medicina generale. Mi chiedo e ti chiedo se non sarebbe una cosa utile costruire una corte longitudinale per vedere che Q-score hanno i pazienti nel momento in cui vengono affidate in gestione integrata e come prosegue annualmente invece che valutare solo la media perché toglierebbe alcuni dei bias di selezione di cui hai parlato anche perché il progetto di gestione integrata in Regione Emilia Romagna prevede che si affida in gestione integrata il paziente stabile e non complicato e quindi però la variabilità poi nelle province è diversa seguendo una corte si potrebbe davvero vedere chi sta mantenendosi, chi peggiora e chi migliora. Sì, è una cosa che essenzialmente bisognerebbe fare e che andrà fatta per continuare comunque il progetto. Ci sono altre domande? Non ne vedo ne ho una io. Se ho letto bene anche l'Abstra ci sono 447 medici in medicina generale all'interno di questo progetto che è un numero chiaramente molto ampio. Ci sono delle differenze di performance tra i diversi medici? Avete analizzato se per caso ci sono delle caratteristiche più giovani rispetto ai più anziani, gli uomini rispetto alle donne? Parlo dei medici non dei pazienti. Allora a livello dei medici non sono state analizzate le differenze. Sono state però analizzate le differenze in base al nucleo e ai distretti per cercare di capire se il Qscore comunque varia nei vari distretti della provincia anche in base alle caratteristiche della popolazione. Grazie. Abbiamo tempo per un'altra domanda se c'è. Grazie. 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 Applausi. Grazie. 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 Grazie.